Fabio Cannavaro ha esodito un altro sogno della sua vita, acquistando l'ex centro Paradiso di Soccavo, la struttura dove si allenava il Napoli di Maradona e dove ha mosso i primi passi da calciatore. Nella personale Bacheca, subito dopo il pallone d'oro e la vittoria mondiale, aveva messo questa operazione, realizzata con la grinta e la determinazione con cui annientava gli avversari in campo. Dopo un lungo contenzioso giuridico, è riuscito a prendersi le chiavi del Paradiso. Fare una struttura dove ci sarà sicuramente una scuola a calcio, ci sarà l'opportunità di poter far venire a giocare tutti quelli che vogliono venire a giocare. Sarà una struttura autosostenibile perché cercheremo di riciclare l'acqua, il sole, tutto quello che si può fare oggigiorno con le nuove tecnologie. I tempi non li so perché conoscete tutti i meccanismi e l'importante è che c'è la volontà di fare qualcosa di carino. La struttura è completamente distrutta da incurio e abbandono. Nel mini tour che concede il giornalistico, Navarro consente l'ingresso nell'area di Spogliatoi, dove c'era la vasca che diventava l'angolo relax di Maradona, dove si spogliavano i calciatori per prendere parte all'allenamento e poi si sottoponevano alla cura delle mani di Carmando. In quelle stanze dove prima Bianchi e poi Bigon disegnarono il Napoli degli Scudetti e della Coppa UEFA, per Cannavarro un progetto ambizioso che affronterà da solo, anche se non nega di sperare, non sostegno da parte della pubblica amministrazione. Tanto è che dare una struttura ai giovani dove poter venire a giocare, anche perché oggigiorno, come dicevo prima, è difficile tirar fuori i ragazzi dalle case, perché con telefonini, playstation e tutte le nuove tecnologie che ci sono restano in casa. E allora cercare di dare vita a una struttura del genere, forse riusciamo a tirarli fuori. Un calcio simbolico al pallone, arrivato come per incanto sul campo disastrato, per dare l'inizio ai lavori nel paradiso di Cannavarro, dove tutto parla di emozione, passione e ricordi indelebili, che Cannavarro prova a restituire alla città ai ragazzi di Napoli, oggi orfani della squadra in città e privi di un centro tecnico, dove si possano allenare i campioni del futuro.